Grazie è giusto a proposito di civiltà e di lasciarsi sempre nel modo migliore possibile con una persona che hai amato ho scritto un'altra canzone che parla di questo sempre perché non credo a quella cosa quando due litigano e continuano a pizzicarsi a continuarsi a rompere i coglioni anche dopo che uno si è lasciato o vuol dire che non è finito ancora o che comunque è ristrano pure prima c'è una persona che hai amato e gli ha voluto bene scrivi semmai diciamo una lettera poi io che suono le mie lettere diventano canzoni allora diciamo che questa qui è una lettera tipo di una persona per una persona con la quale non sto più però insomma qualcosa è rimane